ciao a tutti sono qua a casa con la mia famiglia che ci stiamo guardando la televisione ringrazio skype perché fa vedere delle immagini veramente bellissime del museo del 2006 sicuramente non so se eravamo forse la squadra più forte del mondo però da italiano in un momento difficile come adesso posso dire che noi siamo diventati siamo diventati più forti del mondo perché oltre a essere degli ottimi giocatori abbiamo fatto gruppo eravamo uniti eravamo fiere di essere italiani quindi faccio un grande bocca al lupo a tutti gli italiani di uscire presto da questo brutto virus da questo brutto incubo e ci vediamo presto a festeggiare come noi abbiamo festeggiato nel 2006 un saluto un abbraccio a tutti sono qua a casa con la mia famiglia che ci stiamo guardando la televisione ringrazio skype perché fa vedere delle immagini veramente bellissime del museo del 2006 sicuramente non so se eravamo forse la squadra più forte del mondo però da italiano in un momento difficile come adesso posso dire che noi siamo diventati siamo diventati più forti del mondo perché oltre a essere degli ottimi giocatori abbiamo fatto gruppo eravamo uniti eravamo fiere di essere italiani quindi faccio un grande bocca al lupo a tutti gli italiani di uscire presto da questo brutto virus da questo brutto incubo e ci vediamo presto a festeggiare come noi abbiamo festeggiato nel 2006 un saluto un abbraccio a tutti ciao 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 ciao